Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Mondi dei Cubi Ragazzi nello scorso episodio abbiamo fatto una farm di cane da zucchero Era un design creato da Mambo Jumbo E' un design veramente molto bello perché non blocca mai il processo di crescita nelle cane da zucchero Infatti le taglia ogni volta che questo processo viene appunto bloccato Comunque se siete interessati il video lo trovate nella playlist di Mondi dei Cubi O comunque girando sul mio canale Allora che cosa vi porto oggi ragazzi? Perché non c'è la facecam? Perché c'è tutto così velocizzato? Non so se vi ricordate ragazzi che una volta avevamo parlato di uno speed mining Ne avevamo parlato in due episodi di Mondi dei Cubi Perché due episodi ci erano serviti per esplorare una caverna veramente enorme E quindi avevamo pensato di fare quello che appunto oggi vi propongo E che spero appunto che se vi piacerà avrete voglia di scrivermi nei commenti cosa ne pensate Come al solito perché mi fa sempre piacere vedere cosa ne pensate Qual è il vostro giudizio Scrivendomi semplicemente non so cosa credete che sia meglio tra un mining e il live Dove magari ci sono creeper che mi fanno sclerare però faccio anche più fatica a farvi un bel discorso Oppure più sciallo, più semplice, più diciamo succoso, con più progressi Che è appunto lo speed mining Comunque ripeto è una cosa sperimentale Io sapete che amo molto sperimentare Se vi piace appunto ditemelo nei commenti Comunque la velocità di questo speed mining è di tre volte la velocità normale Perché appunto saranno tre le caverne che andremo a esplorare in questo episodio In realtà non sono proprio caverne perché in realtà uno è questo che è un canyon Poi esploreremo dei condotti artificiali E poi esploreremo una rete intera di caverne Qua tra l'altro c'è una zoccola meglio conosciuta col nome di strega Che mi riempie di veleno e praticamente mi quasi uccide Ma non sa che ferre alla pelle dura Comunque lo scopo di questo episodio Più che un vero e proprio mining finalizzato a prendere delle risorse È quello di andare a illuminare le caverne Tra l'altro qua si passa la seconda speed clip Diciamo, non so come definirle Dove appunto sono in questo canale artificiale Scavato da me sotto casa Ve lo ricorderete sicuramente, è una delle prime cose che abbiamo fatto Per trovare facilmente i diamanti Infatti ne troveremo di diamanti A differenza del canyon di prima, eccoli qua Nel canyon di prima avevamo trovato giusto del carbone, del ferro, niente di che Mentre qua veramente troviamo dei diamanti e della redstone Che però come vedete non raccolgo Per il semplice fatto che preferisco tenermeli sotto casa Tanto diamanti ne abbiamo volontà e di redstone ancora di più In previsione di un piccone con silk touch o con fortuna Per poterli minare in maniera da ottenere il 100% delle loro risorse E in ogni caso qua già vedete che c'è questa redstone che non mi fa mai schifo E la raccolgo sempre Proprio per smentire tutto il discorso bello che ho fatto prima adesso Ma vaffancula Comunque Adesso ormai siamo alla fine di questa piccola clip Perché l'obiettivo di questa clip Ovvero quella di scavare questo tunnel E' di farlo in direzione della mob farm Infatti ragazzi con la farm di cane da zucchero di cui vi parlavo all'inizio episodio Abbiamo diciamo chiuso un ciclo di farm Non dico facile ma comunque piuttosto basilari Piuttosto essenziali Ecco essenziali è il termine giusto E con queste farm praticamente andremo a Diciamo campare per i prossimi episodi Adesso però si comincia con una fase più avanzata Dove non si pensa più a campare Ma si pensa al campari No sto scherzando era pessimo lo so Non segnalatemi vi prego Comunque si pensa non al campari Ma si pensa a andare avanti a progredire E a ottenere il tutto Diventare sempre più potenti No beh scherzo ragazzi Comunque cominciamo a vedere delle cose un po' più complesse E appunto vi dicevo che Il mio obiettivo iniziale è quello di arrivare A potenziare al massimo Almeno per quanto mi è possibile La nostra mob farm Che come sapete è molto efficiente Può rendere veramente qualcosa di incredibile Però bisogna potenziarla per bene Per farlo bisogna fare quello che sto facendo in questo episodio E adesso appunto ve lo spiegherò Con il tunnel artificiale di cui vi parlavo prima Scusate sono ancora un po' in fase di ebola come sentite Comunque col tunnel artificiale che vi avevo fatto vedere prima Cerco di arrivare praticamente sotto a questa farm In modo da cercare di incrociare qualche caverna Alla fine ho scoperto che Sono un cretino Perché come avete visto poco fa Proprio sotto alla farm c'è un bel buco sott'acqua Dove si può entrare e accedere a una caverna Che è questa che stiamo esplorando Piuttosto piccola inizialmente Ma siccome è una zona completamente inesplorata Basta scavare dei tunnel un po' a minchia E bene o male si trovano delle caverne A livelli diversi Anche perché le caverne oltre a incrociarsi Diciamo orizzontalmente Si incrociano anche verticalmente Qua vedete che trovo della ghiaia La rompo E praticamente riesco così a uscire in superficie Come vedete perfetto Mi prendo un po' di quelli danno Ma riparto Ecco guardate bene qua Io praticamente scendo E c'è un bel buco sotto la farm Come vi dicevo Qua comincia la fase Dello scava buchi a minchia Però vedete che serve Perché trovo degli spazi neri Degli spazi scuri E lo scopo appunto di questo episodio Non è tanto prendere risorse Ma appunto Ecco qua incrocio una caverna Tra l'altro Che dopo aver ucciso questo primo enderman Che ci dà la nostra prima enderpearl È la stessa di prima Quindi ricomincio di non scavare Dopo aver fatto un fail Qua dove becco di nuovo il mare Guardate il fail più paura Di tutti Vabbè Comunque In ogni caso ragazzi Dopo questo fail Ricomincio a scavare E vi dicevo che appunto Lo scopo di questo Di questo episodio Non è tanto Trovare diamanti E altre risorse Tanto ne abbiamo sufficienza direi Ma piuttosto Andare a illuminare Veramente per bene Queste caverne E E veramente Scavando tu nella minchia In una zona che praticamente Non si è mai esplorata Anzi Senza praticamente Si otterrà veramente Un risultato Sbalorditivo Perché Si illuminerà veramente Tantissimo E se notate In questa caverna Lo spawn rate È veramente molto più alto Ci sono molti più mob Ecco Guardate bene questa scena Perché praticamente qui E Vado a Uccidere un creeper Ma non Per mano mia Ma tramite uno scheletro Per quale motivo C'è un item In minecraft Che per chi non lo conosce Appunto ve lo dico Si chiama Disco E il disco Che vedete che ho raccolto qua È Un item Che si può ottenere Solo In due modi Allora Esistono vari tipi di dischi Due o tre Se non sbaglio Si ottengono con i dungeon Quindi È abbastanza Semplice Direi anche se semplice Non è perché Dungeon Non l'abbiamo ancora trovati E E Però C'è una Una possibilità Molto alta Di ottenere Gli altri cd Uccidendo un creeper Tramite uno scheletro Ovvero Far sì che uno scheletro Sparando voi Becchi un creeper E il creeper Venga colpito Tante volte Da morire Qua vi faccio notare Quanti mob ci sono Comunque lo so che è una cosa malatissima Ne rendo conto Però Gli sviluppatori hanno Eh Hanno fatto questa cosa Non so perché E E comunque Ho cenuto Ho cenuto Italiano Corregiuto Il Il mio bel cd Che è il primo Di una lunga serie Se non sbaglio Ce n'è uno per ogni colore Ma non vorrei dire cagate Comunque qua Vedete che la caverna Si sta Proprio Ingrandendo A livello A livello di tunnel E quindi è anche più complicato Illuminarla E logicamente con più spazio Si spawnano Più mob Qua ricomincio Di nuovo lo scavo Di L'ultimo tunnel Se non sbaglio Che mi porterà A ondate Comunque non vigi più La regola di prima Perché non siamo Un po' più in una zona Immediata sotto casa Quindi è inutile Tenere lì dei minerali In previsione Di tornare Cioè Tornerò Ma non di certo Per i minerali Fatto ciò ragazzi Come vedete Io rimarrò In questo punto Per un bel po' Perché Continueranno Ad arrivarmi Dei gran mob E farò Molta Molta fatica Ma tra poco Tra Beh più o meno Bisogna aspettare Qualche minuto Ma tra poco Arriveremo a un punto Di questa clip Dove Praticamente romperemo Un muro Che ci fa Accedere A una rete Una diramazione Veramente enorme Di Di caverne Incrociate tra l'altro Con dei canyon Comunque Tutte quante Concentrate lì E Grazie a quelle Ovviamente Ho capito Perché La farm Di mob Mi avesse In un certo modo Deluso All'inizio Perché Pensavo che Anche se le caverne Non erano illuminate Producesse di più E Adesso l'ho già testata E produce Effettivamente di più Ragazzi Poi ve la farò vedere Bene Quando avremo finito Questi lavori E In ogni caso Sarà una cosa Che portiamo avanti Con molta calma Perché è un lavorone E Bisogna comunque Cercare di portare Avanti anche Altre farm Che non sono Basilari Come dicevamo All'inizio Ma comunque Ci servono Quindi cerco Di distribuire Bene il lavoro In ogni caso Qua vi faccio Connotare Come la caverna Si sta veramente Imbombando Possiamo dire Resiste al termine Imbombare Cioè diventano Proprio più grosse E si incrociano Anche molti più Perché Sono più fitte Appunto La rete Di caverne Comunque Qua adesso ragazzi Continuiamo Poi quando arriveremo Al punto Di cui vi parlavo Prima Ricominciaremo Con il discorso Io vi ricordo Comunque Solo di Dirmi nei commenti Cosa ne pensate Perché Mi rendo conto Che per alcuni Potrebbe anche Non piacere Questa cosa Comunque Ve la propongo Via sperimentale So che Siete anche voi Molto predisposti In genere A Provare Nuovi generi Di video Sapete che Mi piace sempre Cambiare E fare delle cose Un po' più particolari E Questa cosa Diciamo È una cosa Che si presta Molto A quello Che avevamo fatto Lunedì Con la Malato Craft Per l'arena Del Quidditch Comunque Adesso Quel muro Che avete visto Per una forzione Secondo È appunto Il muro Che aprirà Proprio Ci aprirà Un mondo Qua tra l'altro Mi crafto Delle altre torce Perché veramente Ne stavo facendo andare Tantissime Trovo altro diamante Ritorno Nella caverna Di prima Veramente Sono caverne Che hanno proprio I riccioli Ragazzi Tornano Sempre su loro stesse E Comunque adesso Veramente vedrete Uno degli spettacoli Di minecraft Perché Hanno una complessità Ste caverne Che Ti sconfigge Nel vero Senza la parola Perché arriva al punto Di dire Che cazzo Come cazzo Faccio Esplorare Questa roba Basta Torno indietro Tra l'altro Se vedete Degli stacchi Di clip Ogni tanto È perché Me la sono fatta A piedi Anche qua Così vi ho avanzato Degli stacchi Dove Anzi Più che degli stacchi Delle parti noiose Scusate Dove Praticamente Guardate qua Qua proprio Qua proprio I mob Pioveranno Vabbè Comunque Vi ho tagliato Diciamo Delle parti Noiose Dove andavo A posare La roba A casa Qua veramente Da quel buco Non smettevano Più di scendere I mob Ragazzi Sembrava Non lo so Cosa sembrava Però guardate Non smettevano più Anche i pipistrelli Vabbè Tutto quanto In ogni caso Dopo mille peripezie Il nostro ferre Dopo essere stato Disturbato Ancora da molti Altri mob Riesce ad accedere A questa parte Più scura Che adesso Vedrete Essere un Canyon E diramarsi In una maniera Veramente Gigantesca Ragazzi E' veramente Una cosa malatissima Che se Riuscivo a esplorare Tutta Un giorno Mi reputerò Veramente Veramente Soddisfatto Comunque ragazzi In ogni caso Qua vedete E guardate Quanti Digamazioni Quanti mob Perché caverne Più grandi Vuol dire Più mob E il fatto Di aver fatto La farm In mezzo al mare Se prima giocava A nostro vantaggio Perché avevamo Uno spawn rate Più alto Per la farm Qua gioca A nostro svantaggio Perché lo spawn rate E' più alto Anche nelle caverne E quindi Veramente Troviamo un casino Di mob In questo punto Veramente io stavo Cristonando Perché ero inseguito Da scheletri Zombie Creeper E Il santo padre Padre più Tutti quanti Che veramente Mi volevano Fare un culo Così E però Come sapete Fer c'ha la pelle dura E non muore neanche In questo caso E però qua Veramente vedete Dove In ogni punto Dove guardavo C'erano punti scuri Da illuminare E appunto Ci sarà un momento In cui dirò basta Non ce la posso fare Creeper che esplodono Tra l'altro Zombie dappertutto Non capivo più Niente E infatti Non so Se avessi fatto Una cosa così Live Non si sarebbe Capito nulla Secondo me E questo è Ecco il motivo Che mi porta A cercare Di agevolare Per le prossime Esplorazioni Questo genere Di video Perché Comunque Ci fa fruttare Di più Perché facciamo Più progressi E comunque È più bello Anche per me Da registrare Perché Posso farvi Tutti i discorsi Che voglio Anzi Se avessi delle cose Importanti a dirvi Posso dirvele anche In sottofondo A una cosa del genere Comunque L'idea iniziale Era quella Di mettere della musica Però Sinceramente Pensavo che La musica Per Praticamente 20 minuti Avrebbe potuto Dar fastidio E quindi Un commento All'isotto Ci stava meglio Anche qua Sono sempre ben accetti I consigli Con la vostra L'opinione Che è quella Che conta per me E Niente ragazzi Qua veramente Tra poco Mi arrenderò Perché Arriverò a un punto Non disperato Di più Perché Continuerò a trovare Del nero Nero dappertutto E In ogni caso Delusione Molto Molto Grande Quella di Non aver trovato Neanche questa volta Un fottutissimo Dungeon Comincio a pensare Che i dungeon Non siano stati inventati In un mondo di cubi Qua rischio di volare Di sotto Anche qua I peggio spaventi Ragazzi Avessi avuto Una ender Per aver fatto Tic Sarai andato bello Al mio posto E qua Comincio a dire Forse è meglio Che me ne torno A casa E logicamente Non mi fa schifo Raccogliere ancora Un po' di minerali Qua e la E non mi fa schifo Prendermi ancora Un po' di mazzate Da tutti quanti E Però vedete che Adesso pian piano Cerco di ritornare Sulla retta via Detto questo Ragazzi Io Comincio a Salutarvi Spero che questo Esperimento Perché è un esperimento Vi sia piaciuto Ditelo nei commenti Io come solito Vi ringrazio E Vi saluto Creeper Non far esplodere Quella pislazzolo Perché veramente Ti mangio Qua tra l'altro Un altro Enderman Scassa minchia E Comunque Ripeto Io vi saluto E Spero che Appunto il video Vi sia piaciuto E nei commenti Sarò comunque Come al solito Molto presente Molti non sanno Che io rispondo O meno cerco Di rispondere A tutti i commenti Ma in genere Ce la faccio E Quindi commentate Veramente Con Con molta Molta tranquillità Vi troverete Vi troverete Sicuramente Detto questo Vi invito anche A proporre Nelle vostre idee Se ci sono Io comunque Vi ringrazio Per avermi seguito Fino a questo punto Vi saluto E non mi resta Che darvi appuntamento Al prossimo episodio E vi lascio Alla fine di questa clip Che Allora Ha scritto Bye bye E ha messo Tutte le cose E così Milla E io Ho soprattutto Adesso Un po' di Marvoli Mi prende Un po' di Nesir Ma Mi ho avuto Per avere Un attacco Bajo